Buongiorno ragazzi, io sono Prof Falanga e questo è il mio canale. Qui potete trovare video lezioni, mappe concettuali, tutorial e tanto altro. Quindi se siete interessati vi invito a cliccare sul tasto iscriviti. Oggi parleremo della centrale fotovoltaica. La centrale fotovoltaica è quel luogo in cui a partire dall'energia radiante del sole si ottiene elettricità. Vediamo un po' come funziona. La centrale solare fotovoltaica è costituita da un determinato numero di pannelli fotovoltaici. I pannelli fotovoltaici sono in grado di convertire l'energia luminosa del sole in energia elettrica. Questa energia elettrica è inviata all'inverter, che è un dispositivo elettronico in grado di trasformare la corrente continua che arriva dai pannelli in corrente alternata. Dall'inverter questa corrente viene trasferita al trasformatore che ne innalza la tensione e successivamente agli elettrodotti.